La bleforoplastica inferiore è l'intervento che mira a rimuovere le cosiddette borse sotto gli occhi. Le borse sotto gli occhi sono dovute a un'erneazione di tessuto adiposo nella parte inferiore della palpebra. L'intervento viene solitamente eseguito in anestesia locale in regime di dei ospita. Molto spesso eseguiamo questo intervento per via transcongiuntivale, ovvero non eseguiamo un'incisione esterna ma passiamo dall'interno, quindi senza lasciare nessun residuo cicatriziale esterno all'occhio. In questo modo il ripristino alla normalità avviene nell'arco di pochi giorni perché appunto non viene il posizionamento di nessun punto di sutura esterno e quindi nessuna cicatrice visibile nella palpebra inferiore.